Musica Vinta contro lo Sporting Mojito Della dodicesima giornata Sergio è stata una bella partita da parte vostra Una rivolsa per questi bad boys Che hanno fatto un campionato pieno di alti e bassi Che ne pensi? Stiamo comunque risalendo Quando ci siamo tutti Penso la squadra Le prime scuole Le parti Possiamo puntare al quarto posto Il nostro obiettivo Per la qualificazione diretta Avete un grande Montanari Un bel tandem d'attacco con Spallice Pietro Lungo quando viene Quando vuole giocare Quando vuole giocare soprattutto Sergio appuntate al quarto posto Raccontami un po' i difetti e pregi della vostra squadra Vabbè I difetti più grandi Che non vengono mai giocati Giochiamo sempre con 6-7 azioni diverse Perché quando siamo in 6 Non ci avvacciamo Non corriamo tutta la mattina Un bel difetto Sicuramente comunque Il campionato volge Alla fine Almeno sia quarto posto Sia quinto o sesto Sarete sicuramente Una squadra protagonista Nella fase finale Di questa intensa Super Cup Sergio Perfetto La squadra completa ovviamente Sergio Dimmi soltanto Un ringraziamento Una dedica per questo premio Lo facciamo anche rivedere Una dedica O un ringraziamento Allora ragazzi La salutiamo Dimmi il nome così Una delle tante Capito? Sa qual è? È bianca È bianca Solo lei Perfetto Complimenti Sergio Alla prossima Ciao Ciao